... ... ... ... ... ... Ok Fina, mi hai dato dei consigli veramente eccezionali. Ciao Fina, ciao! Indovinate con chi stavo parlando? Con Maga Fina! Unica insuperabile, unica maga che genera amuleti, l'incenera dal corpo, da se stessa, l'incenera dal di dentro di se! Io ero sola, disperata, disfizziata, e ho trovato lei, magabina, unica, sola e vera! E ora mi sento libera, libera di fare le mie scelte, libera! Non ho più pressioni, non ho più niente, sono senza scelte, sono favolosa! Ti senti solo? Non hai trovato una tua identità? Sei stata lasciata, o sei stato lasciato dal partner? Vuoi riconquistarlo attraverso filtri o magie? Se hai capitato al momento giusto, vai da... Magabina, la regina! L'unica che col suo fluido magico vede, intravede e stravede! L'unica a generare dal proprio corpo amuleti personalizzati! L'unica a darti vere emozioni magiche! Una sola parola! losing... ma via... Ma via... ma via... ma via... ma via... ma via... a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me